Ciao io sono Luca di approccialla.it e in questo video vedremo tutta la verità sulla questione del quanto conta la bellezza per aver successo su Tinder? Per iniziare ti ricordo che lunedì 14 giugno 2021, ore 21, terrò una lezione gratuita in diretta, online, non dal vivo dove rivelerò il codice segreto per aver successo sulle app di incontri e ottenere una svalangata di match portare la ragazza poi fino all'appuntamento, arrivare poi io anche oltre fino al sesso o a una relazione di lungo termine poi li dipende da quali sono i tuoi obiettivi anche se non sei un modello come vedremo appunto in questo video anche se non hai la Ferrari, anche se non vivi in una piccola città, anche se pensi di essere fuori d'età tutte queste cazzate che si pensa che servono per aver successo per le donne quando in realtà non è così adesso vedremo in questo video nello specifico la questione dell'essere bello, adesso lo vediamo comunque ti puoi registrare la lezione gratuita cliccando sul link in descrizione oppure andando sul sito www.ilcodicefiamma.com quindi parliamo della questione appunto del quanto conta effettivamente essere bello per aver successo sulle app di incontri non è fondamentale, questo qua è il concetto di fondo che bisogna capire perché tu puoi anche essere bellissimo, essere un modello e lo dico da persona, ho già detto anche in altri video ho fatto consulenza delle volte a, non me ne ricordo uno in particolare, ho fatto una consulenza una volta a un modello appunto per la questione delle app di incontri, perché appunto non aveva match, in realtà quando ci ho fatto la consulenza non era più un modello però utilizzava sulle app di incontri le foto di quando faceva il modello e non aveva match e mi chiedeva, non capìa perché, perché non è quello che conta o meglio, sicuramente l'essere molto più bello rispetto alla media, a parte tantissimi che si considerano brutti ma in realtà semplicemente hanno una bassa autostima, in realtà sono semplicemente ok esteticamente normalissimi esteticamente, però siccome la maggior parte delle persone, la maggior parte dei uomini hanno una bassa autostima, si considerano brutti, quando in realtà sono semplicemente normalissimi esteticamente oppure magari sono anche un po' più belli esteticamente, però siccome hanno una bassa autostima si considerano brutti, questa è una cosa super comune ma non è questo l'argomento del video e praticamente mi ricordo di questa consulenza, di cui forse ho anche la registrazione, non ne sono certo e appunto mi ha fatto vedere il suo profilo Tinder e non aveva match, o comunque ne aveva molti molti pochi, non capiva perché ho visto le foto era un foto, per esempio, adesso andiamo a vedere effettivamente quali sono alcuni requisiti che devono avere le foto perché è molto più importante rispettare i requisiti di una buona foto adesso ne vediamo alcuni, piuttosto che essere belli perché se sei bello, ma poi effettivamente, se sei, io intendo per essere bello intendo molto molto bello, quindi oltre la media quindi per esempio chi fa il modello per lavoro e ci sono alcune foto che non vanno bene mi ha fatto vedere le foto che metteva era una foto dove era troppo vestito in maniera elegante queste sono foto che sono troppo serie per Tinder foto dove c'erano troppi colori di scuro foto che erano in bianco e in nero foto dove non sorrideva adesso vediamo qua, come ho detto, troppo alcuni requisiti per foto di Tinder oppure addirittura foto dove non c'era lui se non ci sei te nelle foto è come le ragazze che su Tinder mettono che in realtà anche al contrario, poi c'è lo stesso effetto le ragazze che mettono le foto su Tinder dove sono in gruppo, dove sono con le amiche e tu dici ma chi cazzo è di queste, non so, magari la foto con tre ragazze e tu dici ma chi cazzo è di queste tre e magari ha soltanto una foto o magari ha tutte foto con amiche e tu non capisci chi cazzo è di queste quindi sono tutti errori adesso vediamo qua alcuni dei requisiti che devono avere le foto su Tinder nel momento in cui le tue foto rispettano certi requisiti quando le ragazze hanno il tuo profilo faranno swipe a destra più ragazze fanno swipe a destra in realtà il tuo punteggio sulle app di incontri è composto da diverse cose appunto questo codice segreto e poi vedremo nella lezione gratuita però uno di questi componenti va a comporre il tuo punteggio sulle varie di incontri è appunto l'esperienza che hanno le ragazze quando arrivano al tuo profilo quindi se fanno swipe a destra oppure a sinistra e fanno swipe a destra oppure a sinistra a seconda delle tue foto a seconda di alcune cose che adesso vediamo qui non di quanto sei bello quello è sicuramente un punto in più se sei anche estremamente bello ma ti sembro un modello io ok c'è un video ci sono dei video già sul mio canale youtube se vai alla voce playlist c'è una playlist che si chiama conoscere su tinder e c'è un video puoi cercare su youtube senza andare a vedere la playlist che si chiama le prime 24 ore su tinder dimostrazione reale dove ho fatto vedere come nelle prime 24 ore in cui mi ero registrato su tinder ho fatto una ventina di match senza fare nessun tipo di abbonamento senza lanciare nessun boost semplicemente con i primi 100 swipe ogni giorno forse ogni tipo 12 ore puoi fare 100 swipe finché hai la versione gratuita su quei primi 100 swipe avevo fatto 20 match tutto quanto documentato c'è tutto quanto il video dove filmo appunto lo schermo del mio computer appunto l'avevo fatto da computer e su quei 20 match che avevo fatto soltanto scrivendo da alcune avevo già fissato 3 appuntenti semplicemente il primo giorno senza neanche scrivere a tutte c'erano alcune chat che erano ancora all'imballo in un giorno mi ero fissato 3 appuntenti quindi in un giorno mi ero già fissato appuntenti per tutta una settimana semplicemente scrivendo ad alcune ad alcuni di quei match quindi poi qua si rientrarebbe anche nel discorso che chi se ne frega di quanti match fai l'importante è poi convertirli in appuntento è molto più figo uno che magari fa 5 match e ci tira fuori un appuntento due appuntenti tre appuntenti rispetto a uno che fa 100 match 500 match e poi non fa appuntenti oppure magari fa un appuntento su 500 match capisco che sia molto più bello da far vedere ai tuoi amici oppure altre scuole seduzioni che fanno vedere quanti match sta facendo lo studente bravissimo si ma se poi non li converte capisco che sia più bello da far vedere effettivamente 100 match 500 match si ma poi se non convertono in appuntento non ce ne frega assolutamente niente tutto ciò era per dire che se io che non sono un modello e non sono neanche brutto non mi reputo brutto però non mi reputo neanche un modello anche perché non lo sono sono semplicemente ok esteticamente come lo sono la maggior parte di uomini semplicemente la maggior parte di uomini hanno un'autostima bassa quindi anche se sono ok esteticamente si reputano brutti ma in realtà non lo sono quindi se io che ok esteticamente ci avevo tirato fuori tre appuntamenti in un giorno senza neanche scrivere a tutte evidentemente non è una questione di essere un modello o di avere la Ferrari nelle foto a parte che la Ferrari nelle foto poi attrae le gold digger non penso tu voglia attrarre gold digger ma questi sono altri discorsi si pensa devo vedere se metto la foto con la Ferrari se metto la foto sulla barca e poi allora si che avrà successo con la ragazza si attrarai gold digger oppure le ragazze le ragazze non sono stupide lo capiscono stai cercando di farti vedere vuoi fare il figo di solito succede l'effetto opposto questi sono altri discorsi succede che comunichi alla ragazza che non ti senti abbastanza quindi devi fare il figo devi far vedere i tuoi averi per appunto conquistare altri discorsi comunque requisiti per avere un buon profilo buona foto delle buone foto in questo caso parliamo nello specifico perché il profilo è composto da foto e descrizione in questo caso vediamo nello specifico le foto e ricordarsi che per chi pensa devo essere bello per avere successo nelle app di incontri mettiamo che tu sia bellissimissimissimo adesso tra poco parliamo dei requisiti delle foto mettiamo che tu sia bellissimo e anche abbia delle foto giuste quindi che rispettano i requisiti che adesso alcuni sono in realtà sono più di 20 i requisiti poi ripeto ne parliamo meglio nella lezione gratuita del 14 giugno 2021 adesso ne vediamo giusto alcuni bene però mettiamo che tu faccia un sacco di match perché sei bellissimo e hai anche delle foto con i requisiti giusti e poi non è la tua bellezza che ti porterà all'appuntento una volta che il match è fatto da lì le foto e la descrizione sono andate e da lì si gioca tutto con le abilità in chat quindi questo è il funzionamento delle app di incontri i match li ottieni grazie a foto e descrizione più che altro grazie alle foto la descrizione è una cosa che ti può incrementare il match oppure ti può giocare contro perché se per esempio hai delle foto buone che rispettano i requisiti però hai una descrizione che fa schifo la descrizione che fa schifo ti va a bruciare le foto che sono buone se hai delle foto buone e invece una descrizione vuota è anche meglio quindi molti uomini che magari hanno delle foto buone però poi si rovinano diciamo i giochi mettendo una descrizione che fa letteralmente schifo con questi sono altri discorsi però una volta che il match è ottenuto foto e descrizione sono andate e da lì ce la si gioca tutto quanto con abilità in chat adesso non ne parliamo in questo video magari ne parleremo in altri video in ogni caso poi ne parliamo nell'edizione gratuita del 14 giugno 2021 quindi requisiti per le foto allora la prima foto è la più importante se la prima foto non è perfetta perfetta ripeto non significa che devi essere bellissimo un modello deve rispettare alcuni di questi requisiti che adesso andiamo a vedere per esempio il sorriso perché se non se la prima foto non è buona la ragazza non le vede le altre foto non la vede la tua descrizione qui la prima cosa è la prima foto dal momento in cui la prima foto è buona la ragazza clicca e può vedere le tue altre foto mettiamo che la tua prima foto faccia schifo le altre foto che metti sono giuste sono buone ma la ragazza non le vede perché ti scarta subito perché non viene non catturi il suo interesse con la prima foto oppure mettiamo che hai una descrizione spaziale ripeto la descrizione non è la parte più importante la parte più importante per fare i match sono le foto però mettiamo che hai una descrizione spaziale la ragazza non arriva a vedere la descrizione se la prima foto non la cattura quindi la prima foto più importante sorridere assolutamente importante sorridere questo è in generale in tutte le foto ci possono essere delle foto dove non sorridi sono foto per esempio dove non guardi l'obiettivo della telecamera o la fotocamera o la macchia fotografica o il cellulare insomma ripariamo anche della questione fotografo o non fotografo quindi sono foto dove che sembrano apparentemente casuali in realtà sono le foto che poi richiedono più lavoro ci sono dietro magari 100-200 scatti per far venire una foto buona sono quelle foto dove magari guardi guardi altrove e sembra una foto che è venuta diciamo in maniera casuale lì puoi anche non sorridere quelle foto che vanno bene lo stesso quindi semplicemente un'altra categoria di foto però di base sorridi nelle foto perché altrimenti quello che succede nella maggior parte degli uomini succede che si crea l'effetto dove sembrano arrabbiati anche se non lo sono ok? quindi molto importante il sorridere nelle foto altra cosa molto importante no occhiali da sole questa è una cosa che io per esempio queste cose sono tutte abbastanza banali però per la maggior parte degli uomini non sono effettivamente banali perché altrimenti non farebbero questi errori poi avrebbero effettivamente match nelle app di incontri ma l'evidenza prova che non è così quindi no foto con occhiali da sole perché la ragazza deve vederti bene in viso e altrimenti questo è abbastanza anche risaputo se non sbaglio quando ti registri su Tinder te lo dice proprio di non coprire troppo il tuo volto perché l'algoritmo di Tinder poi ti penalizza se copri troppo il tuo volto per esempio con occhiali da sole quindi no foto con occhiali da sole poi ricordati che lo sfondo racconta di te quindi foto per esempio di viaggi se vai non lo so a Parigi ma ti vorrei fare una cazzo di foto con la torre Eiffel dietro? vuoi farti la foto mentre sei a berti il caffè in un posto in un bar di Parigi benissimo fatti la foto ma poi non sarà una foto che utilizzi per Tinder perché nessuno sa che sei a Parigi in quella foto vai a Milano ma vorrei farti una cazzo di foto col duomo di Milano vai a Roma vorrei farti una foto con il dietro il Colosseo vai non so in America non mi ricordo dove era stato la libertà forse era New York non so potrei aver detto una cazzata ma chi se ne frega ti vorrei fare la foto con dietro la statua e la libertà vai in un posto vai in una città ti vorrei fare una foto con il monumento tipico che contraddistingue quella della città ti vorrei fare uno non so io ero andato nel 2018 a farmi un giro alle isole Borrome e lì il panorama è spettacolare c'è tutto il mare ci sono tutti colori anche molto vivaci adesso ne parliamo magari forse non me l'ho segnato questo però è un altro dei requisiti importanti delle foto foto con colori sgargianti e vivaci foto troppo con toni di scuro foto in bianco e nero no ok poi questi sono altri discorsi la luminosità delle foto è quasi sempre non dire sempre anzi non è quasi sempre è sempre da modificare la luminosità delle foto ci sono app che per aggiustare la luminosità lo si può fare anche tranquillamente dal telefono non serve anche che ti installi delle app però colori un po' sgargianti per esempio la foto che mi ero fatto poi alle isole Borrome ma c'è foto tra poco parliamo anche della questione fotografo la foto che mi ero fatto alle isole Borrome ho preso una persona a casa e passava per strada poi non è che c'è la strada appunto era un'isola e mi sono chiesto di farmi una foto oppure ti attrezzi ti porti vai in giro con un selfie stick lo metti per terra ti fai la foto metti il timer cioè non serve per forza avere il fotografo adesso tra poco ne parliamo anche quindi foto con colori sgargianti foto dove lo sfondo va a comunicare qualcosa ma anche senza andare in posti assurdi ma in realtà non sono foto che ti devi fare appositamente per Tinder sono foto che dovresti farti in generale perché poi sono foto utili che puoi utilizzare per esempio per Instagram Instagram lo puoi utilizzare per tenerti in contatto per il lungo termine con le ragazze però sono foto che puoi utilizzare anche per esempio per Tinder io ho iniziato a costruirmi un arsenale di foto nel 2014 perché sapevo che le foto poi ti possono essere utili per le app di incontri ti possono essere utili per postare sui social su Facebook su Instagram adesso Facebook ormai non si usa più a livello di social quanti scambi contatto social con le ragazze ormai i social e Instagram quindi non è che devi adesso andare per forza a viaggiare e farti le foto in tutti i paesi perché così le usi per Tinder no quando vai effettivamente in posti che hanno un sfondo più interessante quando viaggi fatti anche una foto e poi dopo ti godi la tua vacanza ti godi il tuo viaggio ma fatti per prima cosa una foto quando vai in posti nuovi in posti interessanti e se non viaggi se non sei stato iniziato a una serie per forza viaggiare da un paese all'altro non so vatti fare una giornata al lago non lo so sono cose sono foto che accumuli poi nel corso del tempo nel corso degli anni non sto dicendo che devi appositamente adesso iniziare a viaggiare perché così mi faccio le foto per Tinder non viaggiare con quello scopo viaggia con lo scopo di viaggiare di vederti il mondo di fare esperienze di andare in posti nuovi ripeto anche non per forza in paesi diversi e poi ti fai anche delle foto che poi utilizzi per app di incontri oppure per Instagram quindi ricordati lo sfondo racconta di te anche molto banalmente una foto con dietro non so io una delle foto poi non so se le metterò qua in sovraimpressione però penso di no perché le teniamo poi per la lezione gratuita del 14 giugno quindi no niente foto non le mettiamo qua in sovraimpressione però una delle foto che ho utilizzato per molto tempo io come prima foto era molto banalmente una foto di me ero una festa dove ci si doveva vestire in rosa quindi ero con la camicia rosa e con dietro una piscina era di sera e c'era dietro tipo una specie di di palma non so tipo le palme non lo so comunque non la metto con la foto poi ce la riserviamo per la lezione del 14 giugno 2021 ore 21 ricordo non era una foto dove comunicavo in che città ero in che paese ero era semplicemente una foto dove c'erano dei colori un po' più sgargianti era una foto con dietro una piscina uno sfondo un po' più interessante ma non era per forza una foto con dietro un monumento tipico di una città poi foto di una vita interessante comunica le tue passioni e interessi anche qua cioè se la tua vita è tutto il giorno tutti i giorni da tutta la vita fare sempre le stesse cose che cazzo di foto vuoi avere anche per lo stesso discorso per gli argomenti di conversazione siccome gli argomenti di conversazione derivano fra le varie cose dalle esperienze di vita che fai se tutto il giorno tu lo passi a fare magari un lavoro che odi monotono grigio e poi arrivi a casa e ti guardi la partita di calcio e poi il telegiornale poi il weekend vai a fare gara di rutti con i tuoi amici al bar mentre ti bevi la birra e poi dopo ripeti così poi arriva l'estate si va a Mykonos a provare a rimorchiare senza successo poi dopo ripeti così fino a poi a Natale dove vai a trovare i tuoi parenti i tuoi parenti poi ti chiedono a tavola dove è la fidanzatina e poi dopo riprende così il giro e tutta la tua vita è così e c'è che cazzo vuoi raccontarle alla ragazza quindi questa va piccola digressione sui argomenti di conversazione ma stessa cosa per le foto se non fai niente nella tua vita se non hai interessi passioni cioè che foto vuoi avere se suoni il piano sarebbe bene avere una foto di te che suoni il piano se non so fai l'arrampicata su non so sulle montagne o anche non sulle montagne fai l'arrampicatore sulle pareti lì che si possono scalare sarebbe bene avere una foto di questa cosa se hai fatto l'immersione subacquea non so da qualche parte sarebbe bene avere una foto di quello se hai una qualche passione di solito le passioni quelle che sono interessanti per le ragazze sono cose magari più dinamiche più avventurose hai fatto un tour nella foresta hai vissuto un anno in crociera non lo so cose un po' più avventurose se il tuo interesse le tue passioni è la fisica quantistica la matematica e queste cose qua di solito anche comunicarlo a livello di foto come lo comunichi ma comunque sono cose che di solito non sono interessanti per le ragazze nemmeno che non becchi effettivamente una ragazza che ha esattamente quello stesso tipo di passione e interesse però comunica le tue passioni i tuoi interessi per foto sarebbe bene avere foto diverse fra di loro queste sono tutte cose che non mi ha segnato poi le vediamo meglio 14 giugno 2021 ore 21 però foto diverse fra di loro quindi se hai la passione per il piano una foto con il piano hai ti fatto una crociera una volta una foto di te in crociera foto per esempio questa non so se me l'ho segnata forse si ah foto con con un cane quindi il cane è il miglior amico dell'uomo non solo nella vita anche con le donne quindi alcune ragazze tieni conto e ti matcheranno soltanto per il cane ok e poi chiaramente ci puoi intavolare una conversazione addirittura magari ti scrivono loro perché sono in tenerite dal cane quindi se non hai un cane non lo so affittati un cane non lo so non dico che per forza è necessaria questa cosa però se hai un cane se io per esempio non ho un cane però ci sono dei miei parenti che hanno un cane quindi una volta quando ero andato a trovare un mio parente mi ero fatto la foto anzi è stata anche involontaria qualcosa poi però quando ho scoperto effettivamente è una foto utile da avere per esempio sulle app di incontri l'ho utilizzata per le app di incontri ok quindi se non hai un cane non è per forza necessario che ti affitti un cane che devi cercare un cane ok non sto dicendo che devi per forza avere una foto con un cane però aiuta foto magari con un gatto non tanto però la cosa migliore a livello di animali è foto con un cane vediamo alcuni errori tipici che fanno molti uomini no selfie adesso non starò qua a spiegare prendi il concetto poi vieni in una lezione gratuita del 4 di giugno 2021 ore 21 ne parliamo meglio lì dei requisiti delle foto però no selfie ok le foto tutte le deve fare qualcuno oppure ti metti non so metti il selfie stick per terra metti il telefono per terra metti il timer e ti fai così ai 10 secondi per metterti in posa non lo so ma no selfie ok prendi il consiglio fidati poi no foto allo specchio stessa cosa del selfie no foto del fisico quindi anche se hai un fisico scolpito gli addominali no è la stessa cosa del farsi la foto con la ferrari il lamborghini e queste cose qua a meno che non sia effettivamente quello il tuo vero stile di vita ma questi sono altri discorsi adesso desidero non addentrarmi in questo argomento tipo è chiaro che ti stai cercando di far vedere se metti la foto lì con gli addominali addirittura se metti la foto soltanto degli addominali con te che non ti si vede a livello di faccia quindi sarebbe bene se proprio hai gli addominali scolpiti e vuoi far vedere il tuo fisico scolpito se non hai un fisico scolpito è stupido far vedere il fisico ma comunque questi sono altri discorsi se per esempio hai il fisico scolpito non farti la foto non so allo specchio in palestra dove si vedono gli addominali per esempio abbi una foto dove sei appunto a petto nudo dove si vedono gli addominali se questo è il tuo caso per esempio in piscina o al mare quello è una situazione dove certo sei in piscina sei al mare quindi deve essere senza maglietta quindi lì non stai cercando di farti vedere anche se magari l'hai messa appunto per farti vedere però non passa quanto meno l'impressione che stai cercando di farti vedere ok quindi va fatto vedere in maniera velata questa cosa e serve bene anche perché magari non stai effettivamente in posa perché se sei in posa effettivamente si vede che la foto è stata scattata appunto per far vedere i tuoi begli addominali ok sono altri discorsi comunque ripeto registrarsi alla lezione del 14 giugno 2021 ore 21 no foto con amici o parenti quindi l'ho già detto prima la cosa delle foto con gli amici siccome poi tu effettivamente incontri una ragazza su Tinder e nelle foto non capisci chi è e ti incazzi e dici ma chi è chi di queste magari ci sono delle ragazze belle delle ragazze brutte nella stessa foto e non capisci se lei è una delle ragazze belle o una delle ragazze brutte quindi e poi magari non metti il match perché non sai effettivamente chi di queste è stessa cosa la ragazza quindi se la ragazza vede una foto arriva sotto profilo e vede foto soltanto di gruppo dove sei sempre con amici non capisce chi sei quindi no foto con amici e anche no foto con parenti quindi rischi di passare poi per mammone per sfigato anche se benissimo vogliamo bene parenti cugini fratelli sorelle quello che è ma non si mettono nelle foto su tinder giusto riporto esempi di consulenze che ho fatto in passato dove ho visto dove ho analizzato profili tinder di vari studenti mi ricordo una volta uno che aveva messo la foto dove presente era sulle montagne al pascolo con le pecore con i suoi nonni bello ok ma magari non per non cattura l'interesse dei ragazzi su tinder e poi vorrei trattare anche la questione del fotografo o non fotografo ora se sei agli inizi se hai poche foto o nessuna foto una foto in alta definizione fatta da un fotografo può aiutare? si più in alta definizione la foto meglio è ma se le foto poi non rispettano i requisiti qua ne abbiamo visti giusto 5 6 7 non so quanti ne abbiamo visti i requisiti i requisiti per le foto sono all'incirca 25 tipo 24 25 adesso non mi ricordo poi li vediamo meglio 14 giugno 2021 ore 21 e se non conosci i requisiti per le foto il fotografo non è un esperto di tinder e lo dico da persona che recentemente ho fatto per la prima volta uno shoot in fotografico per avere delle foto in mi sono trasferito da poco in un altro paese e quindi mi sono fatto le foto appunto con monumenti tipici del posto e poi appunto le ho utilizzate le sto testando adesso per tinder e la fotografa continuava a dirmi cose assurde continuava a parte che mi ha fatto foto sbagliate errore mio che non ho controllato poi tutte le volte mi faceva le foto mi sono fidato sarà esperta no i fotografi non sono esperti di tinder non lo sanno quali sono i requisiti di tinder quindi devi essere tu attento di conoscere acquisiti le foto quindi occhio per la questione del fotografo ho amici che sono anni che si fanno shooting per le foto di tinder e tutte le volte mi ricordo uno in particolare che mi dice ah non so come è possibile tu continui a avere match io che cazzo sono anni mi faccio io gli ho detto evidentemente se sono anni che ti fai le foto col fotografo e continui a non avere match qualcosa magari lo stai sbagliando perché il fotografo non è un esperto di tinder quindi io quando ho fatto questo shooting neanche un mese fa continuiamo a dire alla fotografa no guarda questa cosa no mi serve questo questo e quest'altro basta si continuava a inventare cose assurde che non servivano oppure pose che erano sbagliate per tinder ripeto magari dal punto di vista fotografico non lo so la luce isometrica non so anche se esista e la posizione meglio in questo modo sì ma meglio rispetto a che cosa la fotografa il fotografo magari la pensa dal lato artistico ma non lo sa che per tinder se non conoscire quindi tendere foto per tinder non le sai queste cose qui continuava a dirmi cose che erano sbagliate per esempio giusto un esempio mi diceva dai fai una foto dove guardi di là però era una foto dove venivo fuori di spalle che non guardavo appunto l'obiettivo della macchia fotografica e quindi non mi si vedeva poi in faccia è una foto sbagliata questa per tinder però il fotografo è non so pensa dal lato artistico sicuramente come foto magari è anche bella da vedere ma per le app di incontri è sbagliata quindi registrati per lezione gratuita 14 giugno 2021 ore 21 approfondiamo meglio tutti quanti questi discorsi lì rivelerò il codice segreto per avere una valanga di match sulle app di incontri per poi portare anche le conoscenze fino all'appuntamento quindi non soltanto ottenere i match avere dei match non ce ne frega niente il match poi serve perché porti la ragazza fino all'appuntamento anche oltre fino al sesso poi hanno relazioni lungo termine poi gli dipende da quali sono i tuoi obiettivi anche se non sei un modello che ti gioca contro ma ci sono altri discorsi anche se vivi in una piccola città anche se pensi di essere fuori età per le app di incontri registrati con il link in descrizione oppure sul sito www.ilcodicefiamma.com se hai domande dubbi su miei corsi videocorsi ci sono sempre dei contatti telefonici in descrizione dove puoi sia chiamare sia anche parlare su whatsapp con qualcuno dei miei collaboratori appunto fai tutte le domande che ti servono detto ciò ci vediamo al prossimo video a